Su Instagram Luis Muriel sintetizza il momento d'oro della Fiorentina, di fatto unico acquisto di un mercato in cui sono comunque stati presi tre giocatori per luglio e ceduti diversi esuberi e proprio il colombiano uno dei simboli del grande momento della Fiorentina, insieme a Federico Chiesa ovviamente. Con la tripletta alla Roma, la prima in carriera, il figlio d'arte ha raggiunto quota 10 gol stagionali, equamente divisi tra campionato e Coppa Italia. Il suo valore di mercato è ulteriormente esploso, ma al di là delle aste che potrebbero aprirsi a giugno, ora il punto è un altro. Fino al termine della stagione il giocatore sarà a disposizione di Pioli che può puntarci per tornare in Europa passando dal campionato o anche dalla Coppa Italia, adesso che oltre alla Fiorentina sono rimaste in corsa Atalanta, Milan e Lazio, squadre sulla carta tutti abbordabili. Prima della sfida con Gasperini c'è comunque da rituffarsi in campionato per quattro partite, due trasferte sulla carta non proibitive Udine e Ferrara e due super sfide al Franchi contro Inter e Napoli. A quel punto si potrebbero anche fare i conti capendo se sarà il caso di giocarsi tutto in Coppa Italia, l'andata con l'Atalanta in programma il 27 febbraio o continuare a giocare su due tavoli. Domenica la Dacia Arena in una partita in cui il ricordo di Astori per evidenti motivi sarà anche più forte del consueto, avanti comunque con la formazione migliore e poche variazioni sul tema rispetto all'undici che ha iniziato la gara trionfale contro la Roma in Coppa Italia, fatta eccezione ovviamente per l'infortunato Vito Rugo e lo squalificato Benassi con Laurini e Gelson pronti per la loro sostituzione.